What's up a tutti, ci ormai benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo video recensione, se vogliamo chiamarla recensione. Probabilmente è più che altro, ragazzi, un video in cui esprimo un'opinione su questo film, di cui ovviamente già sapete, ragazzi, perché è indicato nel titolo, si vede l'apertura della miniatura. Insomma, ragazzi, oggi voglio un attimo parlare dell'ave action che è uscito pochi giorni fa, il nuovo live action, appunto, pubblicato dalla Disney, ragazzi, che è Peter Pan e Wendy, perché ovviamente lo devono già mettere nel titolo, Peter Pan e Wendy, ok? Dico che non è una recensione perché, ragazzi, non credo di avere le competenze per poter proprio dire che è una recensione, più che altro vorrevo esprimervi qualche pensiero riguardo questo film, perché sapete benissimo, ragazzi, che il cinema a me piace tantissimo. Comunque è successo anche in passato che io abbia, appunto, recensito qualche film che mi stava particolarmente a cuore o di cui comunque vi ho voluto parlare perché non ero estremamente entusiasta ed è esattamente questo il caso, ragazzi, penso che si sia capito comunque già dal titolo, perché, signori e signori, credo proprio che questo sia l'ennesimo live action della Disney di cui nessuno di noi aveva assolutamente bisogno. Cercherò di non essere troppo prolissa, cercherò di non ripetere troppo le cose perché sennò ci sono persone che mi vengono a dire che sono sempre ripetitiva, però ribadisco sempre il fatto, ragazzi, che a volte bisogna imboccare le persone con cucchiaino per far sì che si capisca che comunque sì, sono pareri sempre puramente personali, ragazzi, e soggettivi, ok? Per cui nessuno se la prenda sul personale perché per l'amore di Dio pare che ogni volta che uno esprime un parere stia uccirendo qualcuno, per cui a parte tutto, ragazzi, cercherò di non essere troppo ripetitiva, ci proverò perlomeno. Allora, per quanto riguarda, quindi, ragazzi, questo nuovo live action, che dire, io ho voluto mettermi alla prova. Perché dico mettermi alla prova? Perché di Peter Pan e Wendy avevo già guardato il trailer. E vi devo dire sinceramente che già dal trailer, ragazzi, non ero particolarmente entusiasta, ok? Il trailer, o di solito dal trailer riesco abbastanza a capire se un film mi può piacere o meno. E vi devo sinceramente appunto dire che il trailer di questo film non mi aveva detto assolutamente niente di buono. L'unico aspetto che forse mi aveva intrigato un pochettino era appunto il capitano uncino di Jude Law, anche perché lo sapete, ragazzi, che io ho un particolare diebole per i villain, ok? Quindi quando uno poi è capace di farmi uscire un villain con due maroni così, io mi caso tantissimo, no? Quindi forse l'unica cosa che mi poteva interessare era appunto il capitano uncino di Jude Law. Quindi domenica scorsa ero a casa con la mia famiglia e ho proposto loro di guardare questo live action. Ho detto mettiamoci alla prova. Perché? Ho detto mettiamoci alla prova perché da un lato già sapevo che questo live action non mi sarebbe piaciuto, ragazzi. Infatti il mio sesto senso non mi ha ingannato perché ve lo dico già da adesso e con tutta la sincerità del mondo, ragazzi. Lo sapete che io non me nascondo mai dietro a un dito perché sarebbe inutile. Questo live action mi ha fatto veramente cagare, ok? Sarebbe inutile girarci intorno, ragazzi, ma adesso ve spiego le motivazioni. Non ci soffermiamo ovviamente su argomenti del tipo che attore hanno usato per interpretare Peter Pan, che attrice hanno usato per interpretare Trilly, sapete dove questo discorso andrebbe a parare. Per cui voglio assolutamente sorvolarlo, onde evitare di entrare, ragazzi, in una palude dalla quale sarebbe particolarmente difficile uscire. Per cui non mi voglio esprimere assolutamente su questo aspetto, anche perché sinceramente, ragazzi, penso che i problemi di questo film non siano legati alla scelta degli attori. Penso che c'entrino poche niente perché principalmente... Oddio, o forse in parte sì, ma non parliamo, ragazzi, degli attori fisicamente, ok? Cioè, della scelta degli attori dal punto di vista della loro immagine, ma parliamo perlomeno, ovviamente, ragazzi, delle capacità attoriali, appunto, recitative di queste persone. Per cui iniziamo, ragazzi, sicuramente dall'aspetto che mi ha colpito in primis, nel senso che mi è sembrato proprio, ragazzi, che questi personaggi... Sti personaggi, ragazzi, nel film è come se non ci fossero... Cioè, allora, a parte che di base è proprio il film, ragazzi, di per sé. Perché ho detto che l'ennesimo live action di cui non avevamo bisogno? Perché, tra l'altro, il film di per sé, ragazzi, mi è sembrato veramente inutile, perché non ha... cioè, a me non mi ha detto proprio niente, ragazzi, ok? A parte che è di una confusione allucinante, nel senso che, dal punto di vista proprio della sceneggiatura, il film è di un caos, secondo me, assurdo, perché, comunque, ci stanno tanti momenti in cui fondamentalmente non succede nulla. Tutta la parte centrale del film, ragazzi, mi è sembrata una cozzaglia di situazioni buttate lì a caso, completamente a caso. E quello che mi è sembrato è che, comunque, è come se, ragazzi, una storia non ci fosse. Cioè, fondamentalmente hanno ficcato tutti questi personaggi, che, ovviamente, già tutti conosciamo, all'interno di questo film, per creare un film che, però, fondamentalmente racconta poco e niente. Se non cose che, a me, personalmente, un po', ragazzi, mi hanno fatto rizzare i peli, ok, dietro al collo, ma adesso ci arriviamo. E, scusate se, come al solito, ragazzi, il discorso è un po' confusionario, ma io non mi segno mai una scaletta da seguire, quindi vedi con le cose, così come mi vengono in mente. Quindi, la storia di questo film, ragazzi, è come se non ci fosse, cioè, un insieme di roba buttata lì, giusto per, per cercare di parlare di questa mezza specie di Peter Pan, e di questa cavolo di Wendy, che, ovviamente, l'hanno dovuta ficcare anche nel titolo, perché, eh, ragazzi, oggigiorno il girl power, assolutamente, lo si deve rimarcare. Siccome, ovviamente, la Disney, negli anni passati, non ha mai, non ci ha mai proposto personaggi femminili che ci avessero due palle così, ovviamente non ce le ha mai proposte, allora, oggigiorno è assolutamente importante rimarcare il girl power. Quindi, ricordiamoci che Wendy, ragazzi, è una ragazza forte, diciamo, ma chi, ma che palle, ragazzi, io, era sarcasmo, ovviamente, per chi non l'avesse capito. Sinceramente, pure sta cosa, ragazzi, a me, ma, mi ha gonfiato un po', i maroni, lasciatemelo dire, perché siamo nel 2023, credo che sia ormai un po' inutile, ragazzi, dover stare, appunto, a rimarcare il fatto che anche le donne possono essere personaggi forti. Lo sappiamo già, e tra l'altro, la Disney ci ha già proposto personaggi femminili, ragazzi, che c'erano veramente due coioni grossi così. Uno, ad esempio, un personaggio buttato lì, ad esempio, ragazzi, Mulan. Quindi, di che stiamo parlando? Perché mi devi andare oggi, nell'avection di Peter Pan, a mettere Wendy nel titolo per ricordarci che Wendy pure può essere un personaggio con due coioni grossi così, ma già lo sappiamo che le donne possono essere, regà, di personalità forti. Invece, in questo film, sembra, appunto, che ci vogliono ricordare che solo le donne, ragazzi, hanno due coioni grossi così, perché hanno fatto lo stesso con Giglio Tigrato. Duh, ok, quindi già sta cosa un pochettino, sinceramente, se vedevo di mal disturbato. E quindi, vabbè, perché sono concetti che oggigiorno hanno rotto un po' le scatole. Poi, quindi, per ritornare alla questione dei personaggi, perché vi dicevo che questi personaggi, regà, non c'hanno carisma? Perché è così? Cioè, sto Peter Pan, regà, Peter Pan aveva una personalità di spicco, no? Comunque, un ragazzo che se la tirava anche, una presenza, ragazzi, che comunque colpiva. Ma a me sto Peter Pan, sinceramente, regà, non mi ha detto niente. Cioè, sembra un coglioncello che gli hanno messo il vestito da Peter Pan a caso e che quindi si è ritrovata a caso ad essere Peter Pan, sinceramente. Non c'ha personalità, regà, c'ha più carisma il mio profumatore per ambienti. Quindi, non lo so. Poi, per non parlare comunque, vabbè, della personalità di Trilly, che fondamentalmente è stata un po' snaturata, perché quella che conoscevamo noi, regà, era una bella stronza. Trilly era proprio una grandissima bella stronza. Invece qua è la bella Fatina che è tanto gentile e simpatica e vabbè. Hanno voluto cambiare la personalità pure a Trilly. Alzo le mani, regà, faccio un'alzata alle spalle, che vedevo di. Poi, i fratelli di Wendy, che comunque nel film animato, anche, ragazzi, erano sempre presenti, voglio dire, nel senso che erano personaggi che sentivi, anche qua, regà, completamente inesistenti. Per non parlare, ovviamente, anche dei bimbi sperduti. Cioè, mi sembrano, ragazzi, veramente inesistenti. Mi sono sembrati tutti inesistenti, va bene, sti personaggi. Per non parlare, poi, appunto, dell'isola che non c'è, che comunque dovrebbe essere, ragazzi, un mondo da favola, fondamentalmente, con tutte le sue caratterizzazioni, no? La laguna delle sirene, il posto dove stanno i pirati, il villaggio degli indiani, l'isola che non c'è. Noi l'abbiamo vista sempre ben caratterizzata, comunque, in tutti i suoi vari punti. Invece qua, ragazzi, c'è un'isola che non c'è, che non c'è, in effetti, perché è un pezzore terra. È un pezzore terra dove, cioè, non vedi niente, non vedi niente. Fanno vedere delle pseudosirene all'inizio, che tra l'altro non si capisce se sono mezzo di sireno o mezzo di polipi, non si capisce, è una cosa strana. E per il resto, regà, boh, c'è, il villaggio degli indiani, manco mi ricordo, se mezzo vede, ma, c'è, regà, tutto, non sa di niente sto film, vabbè, non sa di niente, dal punto di vista dei personaggi, dal punto di vista dell'ambientazione, il nulla. E adesso arriviamo, regà, al punto che mi preme, ovviamente. La cosa sarà anche un po' spoiler, però vi avverto dal momento in cui, ragazzi, sarà un po' spoiler, quindi, per quanto riguarda l'unico aspetto che forse me poteva un pochettino incuriosire, quindi il Capitano Uncino di Jude Law, una delusione, ragazzi, totale, quindi senza spoiler, vi dico che l'unica cosa una delusione totale, perché anche questo benedetto Capitano Uncino non mi ha saputo di niente, ragazzi, sembrava un barbone presa alla stazione, per sbaglio, gli hanno messo il costume e gli hanno detto provo a far Capitano Uncino, quindi pure Jude Law, sinceramente, non ho capito in che modo si sia sforzato, perché se vi devo appunto dire sinceramente, ragazzi, a me non mi è piaciuto per niente, ho letto pareri in giro di persone che erano entusiaste della sua interpretazione, a me personalmente non è piaciuto e voi sapete quanto a me piacciono i villain, ragazzi, quindi è stata veramente una gran delusione, cioè a me è sembrato che ci abbia messo impegno zero. Adesso, arriviamo, regà, al momento, alla parte che veramente mi ha fatto rivoltare, regà, le viscere, ok? Mi ha fatto rivoltare addirittura le unghie dei piedi. Parte spoiler, per cui, se volete, ragazzi, da questo momento in poi potete interrompere il video, se avrete intenzione di guardare il film, ma non so se avrete il coraggio di farlo, in ogni caso, vi ringrazio per aver guardato il video fino ad ora. Spoiler! Allora, io vorrei capire perché cavolo la Disney o chi che sia si debba sforzare così tanto, ragazzi, per trovare una maledetta giustificazione al perché un villain sia diventato un villain. Perché dico questo, ragazzi? Perché ovviamente in questo live action hanno voluto far sì che Capitano Uncino prima non fosse Capitano Uncino, ragazzi, quindi che cosa hanno voluto praticamente fare? Hanno voluto praticamente spiegare perché Capitano Uncino si è diventato cattivo, perché Capitano Uncino prima era un bimbo sperduto, ragazzi, era un bimbo sperduto, e poi Peter è stato cattivo con lui e quindi lui è andato via e quindi una volta che è tornato ormai era diventato cattivo, poverino, è stato ferito, gli hanno ferito i sentimenti, raga, a me sta storia mi ha rotto sinceramente i coglioni, lasciatemelo dire, perché è da diversi anni che si sforzano sempre di trovare appunto, ragazzi, un motivo logico al male. Lo hanno fatto con Malefica, lo hanno fatto con Crudelia Daemon perché io mi sono vista pure quell'evaction purtroppo e quindi anche lì, ragazzi, hanno giustificato nuovamente il perché un villain sia diventato un villain e adesso hanno voluto fare lo stesso con Capitano Uncino perché lui prima era buono ma poi siccome gli hanno fatto del male è diventato cattivo. A me sta storia, ragazzi, mi ha rotto le palle perché la devono smettere di voler sempre trovare una giustificazione al male. Ma che cazzo di messaggio lanciamo, ragazzi, scusatemi. Allora, qua bisogna essere consapevoli del fatto che nel mondo, anche se queste ovviamente sono tutte figure inventate, d'accordo, ma dobbiamo essere sempre consapevoli del fatto, ragazzi, che nel mondo purtroppo esiste il male perché sì, non puoi sempre stare a giustificare il male, cioè non puoi sempre stare a pensare che il male per forza prima era buono perché non è così, quindi perché mi devono snaturare sempre sti benedetti villain, ragazzi, cioè tipo malefica, tipo malefica, cioè malefica, lo dice il nome stesso, è malefica, è il male, è il male, punto, non poteva essere bene prima, ma perché, perché, ci dovete trovare sempre la giustificazione in Moidem con Capitano Uncino, ragazzi. Io vi giuro che quando mi sono accorta di sta cosa nel live action, mi è partito l'embolo. Perché? Cioè vorrei capire perché io vorrei che qualcuno mi spiegasse per quale maledetto motivo devono sempre stare a giustificare il male con queste storie che dovrebbero fare commuovere. A me Merekama ha fatto venire soltanto il nervoso, vedevo lì sinceramente, c'è l'idea che prima Capitano Uncino, no, Capitano Uncino è stato inventato così, punto, è un cattivo, punto. Perché gli devi trovare il lato buono? Perché? Magari a personaggi che non possono avercelo perché è sempre stato così ragazzi c'è stava il bene e c'è stava il male non c'è stava il male che prima era bene ma che è diventato male perché gli è stato fatto del male cioè ma mi devo aspettare ovviamente allora io non so se guarderò ragazzi altri live action della Disney vi dico sinceramente perché ne ho abbastanza fin sopra la cima dei capelli di tutte queste storie quindi immagino che ovviamente quando uscirà il live action su Biancaneve anche la regina cattiva poverina sarà diventata cattiva perché prima avranno ferito i suoi sentimenti quindi se crederà più bella del reame perché gli hanno sempre detto che magari era un mostro non lo so cioè ragazzi io queste cose non le condivido perché non puoi sempre non puoi giustificare il male cioè esiste il male perché male punto esiste il male perché sì è così è la triste realtà del mondo e quindi nelle fiabe nelle storie nelle favole sono sempre esistiti personaggi malvagi perché sì perché magari erano così perché magari erano nati così punto che giustificazione ci vuoi trovare questa ragazzi è stata la cosa che più veramente mi ha infastidito di questo live action più di tutte le altre cose del vuoto perché questo film ragazzi è veramente vuoto cioè non sa di niente non sa assolutamente di niente a me non è piaciuto per niente e come sempre ragazzi sempre nel massimo rispetto ovviamente delle opinioni altrui aspetto i vostri pareri qua sotto in commento voglio sapere se altri di voi lo hanno guardato e a voi che cosa ve ne è sembrato quindi direi che forse questo video è durato anche troppo forse sarò stata ripetitiva come sempre un po' troppo prolissa come al solito ragazzi mi chiedo scusa quindi direi che questo video termina qui grazie a tutti un bacione vi abbraccio a tutti ragazzi raggiocherino ciao